Siamo al termine della partita che si è giocata questa sera qui al Palla Ferrarin di Breganze che vedeva ospiti i giocatori del Montecchio siamo con Matteo Dallavalle, uno degli ex del Breganze che sicuramente conosceva benissimo questa pista Matteo, vittoria di 4 a 2 del Breganze ma comunque ecco, il punteggio potrebbe essere un punteggio giusto anche grazie alla tua prestazione che abbiamo visto questa sera positiva comunque Allora, buonasera, sì, sono contento della mia prestazione ho giocato bene per quanto riguarda la partita diciamo che il Breganze sono stati molto più cinici davanti porta quando hanno avuto le occasioni per fare i 4 gol ce l'hanno fatto, l'hanno sfruttato noi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto è stata una partita intensa perché comunque per me giocare contro la mia ex squadra perché li conosco tutti è sempre dura però sono contento dai sì, come abbiamo sottolineato in telecronica Montecchio che sta attraversando uno dei migliori periodi diciamo della sua storia con una squadra neopromossa l'anno scorso in A1 e un'altra squadra di tutto il rispetto in A2 che vede comunque dei giovani crescere e portare avanti sicuramente un nome storico dell'Hockey ti chiediamo i tuoi personali obiettivi proprio come giocatore dove ti piacerebbe arrivare? beh, il mio obiettivo principale sarebbe stato quello di andare in A1 appunto ho giocato per l'anno scorso per la promozione in A1 quest'anno riproviamo con la A2 a farci valere e ovviamente io cercherò sempre di migliorarmi sempre puntare in alto e appunto il mio obiettivo è arrivare alla massima categoria speriamo, incrocio le dita, di arrivarci prima o poi certo, ti ringraziamo per la tua disponibilità e ti facciamo un in bocca al lupo per il consegno della stagione grazie a carpo il lupo